Ciao, sono Cinzia, il piatto che vi propongo quest'oggi è un risotto al pesto mantovano. Gli ingredienti che ci servono saranno del riso, del pesto mantovano, del grana grattugiato, un bicchiere di vino. Procediamo a fare il nostro risotto e infine alla nostra cialda. Ungiamo il fondo di una padella con un pochino d'olio, ci verseremo sopra del grana fino a coprire il fondo, alziamo la fiamma in modo che si forma una crosticina. Come si è formata la crosticina, toglieremo la nostra pellicola di grana, la adageremo su questa ciotola, si raffredderà e prenderà questa forma, ci verseremo il risotto e questo è il risultato finito. Buon appetito!